A poche giornate dall'ultima padrona della Lazio avremo un'altra partita, questa volta in casa contro di loro. Siamo al settimo posto, con però una partita in meno rispetto alle altre, con una vittoria andremo a 35 punti, potenzialmente al quarto posto che vogliamo veramente, veramente tanto, quindi andiamo a giocare questa partita. In teoria poi dopo questa partita dovrebbe esserci un po' di mercato sia in entrata che in uscita, hanno una bella squadra con Acerbi, terzino destro e Lazzari difensore centrale. Non ha un cazzo di senso sto FIFA 22, ma a noi piace così. Forza Forza Milan, andiamoci a prendere altri tre punti. Eccoci qua San Siro per quest'altra giornata di campionato, penso la ventesima, la prima del girone di ritorno. Siamo contro la Lazio che abbiamo battuto 3-0 nel primo tempo nella gara di andata, vorranno vendicarsi, vogliono anche risalire. L'altra volta erano quindicesimi, questa volta sono quattordicesimi, quindi in realtà non si sono smollati di troppo. Ma era un buadu che gioca a titolare questa partita. Franck e sì, bel pallone dentro, subito fuorigioco, non l'avevo visto il fuorigioco, vi giuro non l'avevo visto, voglio rivederlo. Vediamo se c'era il fuorigioco, bella palletta di Franco, sì c'era, netto, netto. Palletta scodellata, la recuperiamo, loro sono sbilanciati, possiamo sfruttare il nostro vantaggio. Bel pallone per Jeremie Doku che può scattare, Jeremie Doku, Jeremie Doku contro il portiere, Jeremie Doku, 1-0, ha segnato Jeremie Doku, partenza, monster per il nostro Milan. Grande Jeremie, grande numero 7 che passa attraverso le bandierine. Ancora la Lazio, Ozzonodoy sul secondo palo, gran gol di Schick, qua è proprio, è volato su range che non lo poteva mai prendere, appena ho visto ho detto questo è subito gol. Bravo Patrick Schick che trova il gol dell'1-1, bravi loro, prima azione per loro, primo gol. Franchesi, bel pallone per Mairon Baudou, posizione che era regolare, pensavo fosse fuorigioco sto giro. Palla fuori per Rafa Leao, prova il tiro a giro, bella parata di Stracoscia. Franchesi, è partito Jeremie, è partito anche Ante Rebic, possiamo servirlo sulla corsa. Vai Ante, bella sponda per Mairon Baudou con il destro, traversa, incredibile. Jeremie Doku mette giù il pallone, mamma che giocatore che è Jeremie Doku, Jeremie Doku se ne va via, Jeremie sul secondo palo. Che stava facendo Ante, impazzito completamente. Sandrino Tonali per Jeremie Doku, vede l'arrivo di Devine Ranch che mette il pallone dentro. Mamma mia Ante Rebic, 2-1. Come giochiamo bene ragazzi, ancora Ante. Ancora la Lazio, questa è la seconda azione con cui riesco ad arrivare in porta, due tiri, due gol, incredibile. Non hanno fatto nulla, stiamo giocando solo noi, trova il gol questo Gerzel, come cavolo si chiama, e sono di nuovo in parità, incredibile. Pallone messo dentro sul calcio d'angolo, abbiamo rischiato qua, Magnan doveva prenderla, però invece il difensore è andato. Palla dentro, dai, tre tiri, tre gol, sta partita è una cagata pazzesca, incredibile, ancora Schick. Choumeny, tocco dentro per Escalante, Gerzel che è infermabile, invece no, lo fermiamo senza commettere fallo. Quindi Rafa Leao, deve partire Ante Rebic, il pallone è perfetto per lui, l'Engley lo insegue ma non può bloccarlo. Bravissimo Ante, mamma mia, ancora Stracoscia, non ci credo. Fra anche sì, dall'altra parte c'è Jeremy Doku, il pallone è perfetto per lui, Jeremy Doku verso Mayron Boadu, il pallone è dentro, bella per Ante Rebic. Qua Boadu poteva tirare ma non volevo rischiare, è stato molto molto gentile a passarla da Ante che segna ancora 3 a 3, ma non so come facciano ad essere con tre gol segnati loro. Veramente partita incredibile, vogliamo vincerla, dobbiamo vincerla, c'è ancora tempo. Bravissimo Mucchiele, che stacco, c'è quindi Ante Rebic che deve aspettare qualcuno che qua, se no, mi rubano il pallone. Teo Hernandez scende sulla faccia, c'ha spazio davanti a sé. Uh, centralmente è partito anche Rafa, namma Rafa, sempre l'ultimo passaggio che sballi. Uh, vai, vai, bel pallone! Sì, avevo paura di sbagliarlo! Jeremy Doku, ho appena detto Rafa Leao, sbagli sempre l'ultimo passaggio, ha fatto un assist veramente millimetrico al bacio. Grandissimo il nostro Jeremy Doku, se non sbaglio, doppietta addirittura. Grande, grande Jeremy. Attacca la Lazio, il pallone però non è dei migliori, possesso ancora per loro, in qualche modo! Maignan, che parata che ha fatto! Mamma mia! Cioè qua ci ha salvato veramente dal 4 a 4. L'arbitro fischia, finisce la partita, 4 a 3. Portiamo a casa i tre punti, per fortuna lo script non è bastato, vinciamo contro la Lazio di Sarri, saliamo in classifica, ora vedremo come siamo messi e speriamo che cominciano ad arrivare delle offerte belle ciotte, così cominciamo anche il mercato. Per quello che riguarda il mercato in uscita, vediamo un attimo la nostra squadra per capire cosa potrebbe succedere. Consigli è in scadenza, non si può rinnovare, l'abbiamo messo in vendita ma nessuno ce lo comprerà. Se riusciremo a prendere un altro portiere scambiandolo con appunto Consigli faremo questa trattativa, se no aspettiamo fine stagione Consigli si va a ritirare e prenderemo poi un altro secondo portiere senza problemi, non è comunque una priorità. L'altro giocatore che potrebbe salutare potrebbe essere Ballotouret che ho già messo in vendita, non è mai cresciuto più di tanto e comunque come riserva è ottimo però potremmo prendere qualcuno con magari più potenziale e con più potenzialità appunto da come giocatore al posto di Ballotouret, un giocatore che comunque abbia le caratteristiche simili a Theo, quindi un giocatore veloce che quando manca Theo ci faccia sentire poco la sua mancanza anche se Theo è insostituibile. Sulla difesa siamo messi bene assolutamente, anche sulla destra Calabria sta crescendo, è tentato 82 molto bene e anche se poi vedremo la prossima stagione se migliorare anche il ruolo dove sta Calabria però vedremo, abbiamo anche Ranch che sta crescendo. Per quanto riguarda invece il centrocampo valuteremo offerte magari per Kessy o Benasser, sono i due giocatori che se ci arrivano grosse offerte potremmo valutare ma solo se arrivano veramente offerte irrinunciabili mentre Tonali e per questa stagione credo anche Adli li andremo a tenere però anche Adli se ci arriva un'offerta veramente grossa la valutiamo perché comunque è una riserva quindi se ci avevano offerte si valutano. Poi per quanto riguarda l'attacco ci sono Sale Makers e Rafa Leao che sono due giocatori che anche in questo caso se ci arrivano delle offerte importanti le andremo a valutare soprattutto per Sale Makers che è un po' indietro nelle gerarchie e poi potremo pensare di sostituirlo con qualcun altro. Ora vedremo con chi anche se io ovviamente li terrei volentieri quindi solo se arrivano offerte molto altre per esempio Sale Makers ci arrivano offerte da 30-35 milioni e Rafa deve essere minimo da penso 45-50 milioni non di meno. Mentre per quanto riguarda l'attacco direi che il giocatore che potrebbe essere un sacrificabile se non adesso nel mese comunque di luglio-agosto potrebbe essere Dujan Vlaovic che è dietro diciamo come vena realizzativa rispetto a Rebic e Boadu. Ha segnato abbastanza poco devo essere sincero ha fatto 5 gol e 5 assist in campionato ha fatto in 15 partite 4 gol e 5 assist che sono tanti però noi vogliamo che segni e deve segnare di più questa è una media che non è buona non è ai livelli di Boadu che ha fatto già 9 gol in campionato e addirittura i 12 gol di Ante Rebic e quindi possiamo insomma valutare una cessione che non sia adesso nel prossimo anno di Dujan Vlaovic che comunque dovrebbe essere ceduto per una cifra molto alta siccome almeno 70 milioni e non andremo a fare però troppi sacrifici quindi se dovessimo mai fare qualcosa la faremo con una cessione e andremo a sostituire questo giocatore più come vi ho detto il terzino sinistro al posto di Balloture e il portiere questo potrebbe essere il nostro mercato. Arriva un'offerta e arriva un'offerta dall'Arsenal per Balloture che è un giocatore che abbiamo messo in vendita arriva l'offerta dell'Arsenal noi andiamo a trattare e se riusciamo a cederlo anche solo per un milioncino in più ci va bene però l'Arsenal ha soldi ha soldi da spendere e quindi glieli vogliamo far spendere. Vorrei vedere visto che un terzino che in realtà potrebbe servirci e ce l'hanno che è Nuno Tavares che potrebbe essere un sostituto di Balloture in realtà potrebbe essere un giocatore interessante però preferirei magari poi andarlo a prendere direttamente magari riesco a strappare una cifra più alta da parte dell'Arsenal 10 milioni mi andrebbero benissimo non abbiamo bisogno comunque di soldi accettano 10 milioni molto molto bene e quindi andremo a vendere Balloture che va all'Arsenal in Premier League. Arriva la conferma della cessione di Balloture arrivano 7 milioni e mezzo sul mercato e quindi direi che possiamo andare a puntare sul terzino sinistro ora vedremo chi. Stiamo decidendo per il terzino tra un paio di giocatori Vinagre del Wolverhampton che è in scadenza di contratto 23 anni 79 di overall sarebbe un ottimo giocatore con delle caratteristiche simili a Teo Hernandez quello che ci serviva molto offensivo che quindi quando gioca nella nostra tattica è sempre comunque buono può correre sulla fascia. Dovrebbe essere anche ex compagni di squadra di Raffa Leo ai tempi dello Sporting mentre l'altro giocatore è ecco ve lo trovo subito Junior Firpo del Leeds United che è un giocatore che costa un po' di più non è in scadenza di contratto. Le caratteristiche però sono sempre quelle forse Firpo è addirittura un po' più completo più tecnico c'è anche tre anni in più abbiamo fatto un sondaggio e hanno la chat ha deciso di provare a puntare prima su Vinagre quindi magari faremo la prima trattativa con il Wolverhampton. essendo in scadenza di contratto potremmo pagarlo anche meno del suo valore e sarebbe buono direi come prima offerta di provare a offrire 22 milioni che è sotto il suo valore ci chiedono 22 milioni praticamente 23 con la clausola. tolgo la clausola alzo a 23 milioni vediamo che cosa dice Bruno Lage 26 milioni e 1 non è male andiamo però a 24 essendo in scadenza abbiamo noi il coltello dalla parte del manico accettano 24 milioni che sono pochissimi secondo me per un giocatore come lui e vediamo adesso se arriverà o meno. direi di fare l'offerta anche a Junior Firpo vediamo quanto ci chiederà il Litz perché anche Junior Firpo mi stuzzica il sondaggio alla fine è stato veramente un 52% contro un 48% quindi andiamo a trattare anche con il Litz. per Junior Firpo ci chiedono Ben Nasser che però io lo vado a togliere provo ad offrire 32 milioni che sono comunque più soldi di quello che vale ci chiedono 40 milioni che sono veramente tantissimi soldi io arrivo massimo a 34 milioni se chiedono di più vado a rifiutare. 40 milioni sono veramente troppi quindi terminiamo la trattativa e credo a questo punto che andremo direttamente su Vinagre che va benissimo assolutamente è un giocatore che stiamo pagando anche meno di quello che vale quindi andiamo a fargli il contratto. Dobbiamo offrirgli noi l'ingaggio direi di non rischiare proviamo 90 mila più 300 mila di bonus ingaggio dovrebbe essere un ingaggio altissimo per una riserva però lo voglio prendere tanto sto risparmiando sul cartellino molto molto bene accetta quindi benvenuto a Ruben Vinagre nuovo acquisto primo acquisto di questa sessione di mercato invernale un gran bel terzino. Eccolo qua Ruben Vinagre come vedete ha un bellissimo esagono molto sulla velocità ma anche sul passaggio il dribbling deve migliorare a livello difensivo lo alleneremo prima di tutto a diventare un terzino sinistro che secondo me può anche crescere ancora di più di overall e poi lo alleneremo tanto sulla difesa sul fisico e anche sul piede debole come vi ho detto gli do terzino sinistro che però ci mette tanto però ha bisogno lo voglio come terzino e quindi alleniamolo così. Ora avremo la Sampdoria in campionato al tredicesimo posto si trovano noi invece siamo al quinto posto dopo 20 giornate a 35 punti siamo a un punto dalla zona champions la Samp vorrà farci lo scherzetto direi che possiamo andare a giocare con una formazione abbastanza rimaneggiata con Vinagre che scende in campo dal primo minuto Timber in difesa comunque una formazione molto molto forte direi che possiamo andare a iniziare la partita un po' di turnover più che altro per la partita. La partita di Coppa Italia e di campionato poi contro l'Atalanta andiamo a giocare la partita forza forza Milan. Eccoci qua al Malassi di Genova per Sampdoria Milan siamo contro una squadra molto forte su FIFA soprattutto hanno dei giocatori interessanti noi però vogliamo continuare a vincere fare tre punti rimanere imbattuti in questo mese di gennaio iniziare a fare una striscia di risultati utili positivi ampliarla ancora di più loro sono già partiti rubiamo subito il pallone forza forza Milan andiamoci a prendere i tre punti. Prenderemo un esterno giovane se vendiamo Vlaovic un attaccante però ora concentriamoci sulla partita boys. Uh bella parata di Mainian e arriva il gol stavamo parlando di mercato e arriva il gol della Sampdoria dobbiamo stare concentrati sulla partita ha segnato se non sbaglio Gray attaccante inglese che è andato alla Sampdoria. Pone lungo per Michele Damsgaard che era uno dei nostri obiettivi soprattutto la scorsa stagione poi è arrivato Jeremy Doku ancora la Sampdoria palla scodellata dentro bravissimo il nostro difensore il tiro incredibile 2 a 0 ha segnato penso ancora Gray. 2 a 0 per l'inglese doppietta no che ha segnato non è Gray ma è Vanilson l'altra attaccante bravo sale makers in uscita dobbiamo spazzare Ante Rebic tiene il pallone sì bravissimo Ante che la gira per Rafa Leao è partito Myron Boudou in velocità bellissimo pallone per Myron Boudou il tocco la parata incredibile. Dovevamo fare golli con Boudou bravissimo Sandro come anticipato bene il tocco poi per Myron Boudou ancora per Rafa Boudou ce l'ha sul mancino Boudou può andare in velocità bravissimo Boudou il tiro a giro che è parata via Udero ancora che salva il risultato incredibile. Ancora la Samp palla allargata per Damsgaard e la deviazione mamma mia calcio di rigore cosa ha fatto no l'ha presa con la mano non ci credo non ci credo non voglio neanche rivederlo a quanto pare l'ha presa con la mano Evanilson contro Mainyan 3 a 0 doppietta del brasiliano. Cioè non l'ha presa con la mano o sbaglio scusatemi ragazzi però mi sembra che l'ha presa col ginocchio non con la mano cioè la mano non l'ha neanche sfiorata cioè lo vedete no non è mano questo o sbaglio o sono io che non ci vedo questa non è mano. Uh ci regalano il pallone vai Ante non puoi sbagliare Ante tocco per Jeremy Doku bravissimo Jeremy appena entrato 1 3 a 1 ora dobbiamo trovarne almeno altri due senza subirne uno questo ce l'ha regalato palese però va bene va bene è quello che ci hanno rubato prima Ruben Vinagre tocco per Brahim che è fresco appena entrato Isma Ben Nasser la gira dall'altra parte per Davidino Calabria dobbiamo trovare spazi Sandro Tonali passa il pallone per Ante Rebic c'è ancora Jeremy Doku Jeremy Doku davanti al portiere mamma che parata che ha fatto non ci credo occasione per la Samp non c'è più tempo finisce la partita 3 a 1 hanno meritato no di vincere assolutamente no però hanno vinto e quindi GG per loro bravi. Andiamo avanti con il calendario dopo la partita contro la Samp ci arriva un'offerta dall'Atletico Madrid per Dujan Vlaovic anche molto realistica l'Atletico voleva Dujan se non sbaglio quest'estate era vicino all'Atletico e ci offrono 49 milioni che sono pochini vi ricordo che comunque il Borussia si era spinto a 60 milioni possiamo chiedere fino a 68 milioni. Andiamo a trattare con l'Atletico potrebbe essere una cessione sensata potrebbe essere un sacrificio da fare visto che comunque anche per lui troverebbe magari più spazio all'Atletico ora non lo so però credo di sì magari Suarez ed è cresciuto. E allora proviamo a chiedere come prima contro offerta 65 milioni che non mi sembra esagerato vediamo che cosa ci dicono 53 milioni hanno alzato un pochettino non troppo e io vado a 64 basta che lo vendo a minimo 60 milioni mi vanno bene. 64 milioni accettati questa è una cessione molto molto buona l'abbiamo comprato praticamente a meno della metà visto che abbiamo dato dentro anche Castilleco e questa qui è una cessione buonissima vedremo se accetterà ma credo proprio di sì e vedremo con chi sostituirlo ma visto che è arrivato anche Boadu stava giocando tanto con Rebic Vlaovic aveva senso venderlo. Perfetto perfetto